E' partito ad Asiago il conto alla rovescia per l'undicesima edizione di Made in Malga che porterà ancora una volta il pubblico delle grandi occasioni in alto piano. La rassegna nazionale dei migliori formaggi di montagna è in programma dall'1 al 3 e dall'8 al 10 di settembre nel centro asiagese dove arriveranno produttori ed esperti, malgari e casari dal peggio provenienti da tutta Italia per una delle iniziative casearie più importanti a livello nazionale. L'altopiano dal canto suo mette sul piatto o sul tagliere il patrimonio malghivo più grande dell'arco alpino e una tradizione antica legata all'agricoltura di montagna e ai gusti dei formaggi dal peggio per un'esperienza sensoriale e culturale di grande impatto. Made in Malga offrirà ai visitatori la possibilità di trascorrere più giornate in montagna all'insegna dei sapori delle terre alte, fra mostre mercato, laboratori, degustazioni masterclass ed escursioni per scoprire il territorio dei sette comuni. Si potranno degustare sotto la guida di figure di spicco del panorama caseario le meraviglie create dai casari di varie regioni d'Italia per conoscere a fondo le differenze fra le varie tradizioni di uno dei comparti più celebri e rinomati a livello mondiale. In ballo anche una rassegna cinematografica a tema laboratori dell'artigianato e un focus dedicato alle birre di montagna. La manifestazione è ormai diventata un appuntamento fisso il cui nome è legato al doppio filo con quello dell'altopiano e che è in grado di richiamare tanto gli appassionati dell'arte casearia da tutto il paese quanto i curiosi e gli amanti della montagna. L'anno scorso la decima edizione ha fatto segnare un record dei visitatori e gli organizzatori puntano al bis nel 2023.